Uomini e donne si incendia. La puntata del 20 dicembre ha visto uno davanti all'altro Alessandro Vicinanza e Gianni Sperti. Tra i due non corre buon sangue e, anche questa volta, sono volate parole grosse. Non appena ha sentito Gianni difendere Roberta, Alessandro ha perso il motivo. Alessandro aveva fatto trovare alla dama Cristina Petali di Rosa e Palloncini. Roberta non ha apprezzato questo romantico gesto, e sui social in tanti si sono schierati dalla sua parte e contro l'ex di Ida Plata. Il provolone sta sempre in mezzo, ma lascialo perdere. Se vuole frequentare anche altre non è né interessato e né serio, lui è un pagliaccio. Sta lì solo per farsi le storie con quelle più in vista. Ma come si fa a discutere per un uomo così insignificante? Alcuni dei commenti. A cui poi ha fatto ec. Uomini e donne. Gianni Sperti criticato da Alessandro Vicinanza. Dopo l'applauso di Gianni a Roberta, Alessandro ha dato dello scostumato all'opinionista che ha puntualizzato come tutti i suoi interventi sono atti a scovare Kiffing davanti alle telecamere. L'atteggiamento di Alessandro sarebbe per Gianni una prova sufficiente per dimostrare come vicinanza sia in cerca di altro nel programma. La considerazione di Gianni ha indispettito Alessandro. Io finto? Tu sei cattivo dentro. Ha sbottato il cavaliere di uomini e donne con la lite che è proseguita.